...dei quarti di finale insieme all'Inghilterra che incontrerà il vincitore del quarto girone. Il comando nel quarto girone si determinerà tra Germania e Peru. Con due vittorie a testa entrambe sono certe di qualificarsi per i quarti, il punto da decidere è chi giocherà contro i campioni del mondo. Uwe Ziller, capitano della Germania. È il diciottesimo, l'Ibuda passa a Müller e la Germania si porta sull'1-0. E il portiere del Peru, Rubinos, sente che questo potrebbe non essere il suo giorno affortunato. Sette minuti dopo Gonzales si fa saltare cross per Müller e la Germania è sul 2-0. Doppietta di Müller che al trentasettesimo riceve palla da Uwe Ziller e realizza la sua seconda tripletta in questi mondiali. Il Peru, pur rassegnato, si porta in avanti. Della torre viene atterrato al limite dell'area. Viene concesso un calcio di punizione. Kubias si incarica di batterlo. E sulla deviazione, Mayer è spiazzato. La Germania arriva prima nel suo girone e nei quarti di finale incontrerà l'Ibuda.